è quel senso di familiarità quando incontri un estraneo è quella strana sensazione quando entri in una stanza è quel lampo improvviso quando riconosci un oggetto è un déjà vu ci conosciamo sì ci conosciamo e se pensavi che fosse solo nella tua mente preparati a scoprire la verità che faresti se dovessi rivelare la cosa più importante del mondo sapendo che non ti crederebbe nessuno ci proverei nelle sensazioni ci sono indizi e nei ricordi ci sono avvertimenti preparati stai per assistere a un omicidio deja vu ti porterà in un viaggio tra 12 ore la ucciderà che non hai mai neanche immaginato l'ho uccisa quattro giorni fa è una teoria l'ho uccisa Grazie a tutti